Bari, la città, la Bari, la squadra di calcio e l'università insieme per raccontare la Bari di ieri e di oggi di cui l'Ateneo e la squadra esprimono in modo diverso l'identità. Lo ha sottolineato il rettore Antonio Uricchio ricordando che sulla comune appartenenza e su questo forte ruolo identitario l'Ateneo ha puntato per stabilire un rapporto virtuoso con la città e la squadra di calcio. Il rapporto con la società è un rapporto utilizzato, quest'immagine già dall'inizio, cioè di collaborazione e di simpatia senza privilegi per dare l'idea che a noi spetta l'onere di amministrare l'intera città. Però la società sta facendo tanti sforzi ad esempio rispetto all'impianto sportivo, al San Nicola e a breve spero che porteremo l'attenzione del Consiglio Comunale, il perfezionamento della concessione pluriennale. Siamo uno strumento che può aiutare molto la socialità di una cittadinanza, stiamo collaborando in maniera stretta da questo punto di vista con il comune, abbiamo fondato subito dall'anno scorso dall'insediamento della nuova gestione paparesta una nostra branca che si chiama FC Bari Solidale con la quale portiamo avanti una serie di iniziative che sono rivolte al nostro territorio. Noi abbiamo avvertito un bisogno da parte della comunità accademica di aggregazione sociale, soprattutto chiaramente dal punto di vista sportivo e quindi abbiamo cercato di perseguire l'obiettivo che era quello di aggregare socialmente un po' tutta la comunità accademica. L'espressione maggiore sono gli studenti universitari ma devo dire che anche il personale tecnico amministrativo e docente ha risposto benissimo.